Siamo con il dottor Elino Attardi, parliamo di campagna vaccinale, una campagna vaccinale che ormai è entrata a pieno regime, tra l'altro dal 3 giugno è aperta praticamente a tutti dai 16 anni in poi. Così facendo stiamo sopperendo anche ai ritardi del recente passato. A suo avviso quanto ci vorrà per raggiungere questa tanto agognata immunità di greggio e per lasciarci definitivamente alle spalle questa triste situazione? Ma già l'anno scorso io ebbi a dire che nel luglio sempre dell'anno scorso noi avremmo avuto risultati positivi dal punto di vista dell'epidemia e dell'immunizzazione perché gioca un ruolo fondamentale particolarmente per il meridione, la Sicilia in particolare, il caldo che che molti ne dicano o non lo ammettano, il caldo intercetta, visto che portiamo le mascherine all'aria aperta, eccetera, il virus, che a quel punto ha un'emivita molto ridotta per cui non è in condizione di aggredire la gente, eccetera, eccetera. Quest'anno a gennaio già anticipai come feci l'anno scorso che aprile maggio noi avremmo avuto dei risultati che sono sicuramente migliori delle previsioni perché abbiamo fatto il vaccino a tappeto pur nelle difficoltà non dei vaccini ma della fornitura da parte delle case farmaceutiche che hanno ritardato, che sono in difficoltà, che non prevedevano, eccetera, eccetera. Quindi il risultato è sicuramente un abbattimento dei positivi, c'è, è in corso. Io ritengo che entro la fine di giugno, primi di luglio, noi avremo sicuramente quello che auspicavamo e per cui potremo muoverci con notevole disinvolture. Di questi giorni il dibattito è lanciato soprattutto dal virologo americano Fauci, dal presidente Biden sulla origine del Covid. Si è tornato a parlare della possibilità che probabilmente sia nato in laboratorio e che sia poi sfuggito. Lei cosa ne pensa di tutto questo? Come ebbi a dichiarare già l'anno scorso, perché io mi occupo di Covid dal febbraio dell'anno scorso, quando ho previsto quello che sarebbe successo quantomeno in Sicilia e tant'è che stimolai il nostro sindaco Cicciuzzo Italia, il quale, come si suol dire volgarmente, se ne fregò. Mi ringraziò per la mia disponibilità gratis a fornire consulenza di alta qualità, ma se ne lavò le mani, del resto lui nei video che fece nel tempo successivamente ha detto non gliene fregava, ma cosa mi raccontate dei numeri, io mi devo occupare di altro, poi io sono felicemente realizzato. Tutto quello che è legittimo che lui possa fare, nella misura in cui però reciti il ruolo che gli ha conferito un elettorato, per quanto attiene la carica di sindaco, invece lui l'ha disattesa, come al solito, come disattende il quotidiano, un disastro, una città allo sbando. E allora, qual è il problema, Fauci, Biden, eccetera? Già l'anno scorso, perché io ho i miei canali di informazione, io ebbi a dire che c'è al di sopra di tutti quelli che parlano, sti sciensati del Cacchius, per essere chiari, c'è una voce che si erge al di sopra di tutti, senza sospetto, eccetera, ed è quella del premio Nobel, Luc Montagnier, il quale, virologo, proprio specifico, specialista, scienziato, premio Nobel, senza interesse, ultraottantenne, ebbe a dichiarare che lui, analizzando il virus, aveva localizzato la zona dove si era apportata la modifica per rendere il virus particolarmente aggressivo. E quindi questa è realmente la vera verità. Gli americani, il Fauci di turno, uno che commive con Pfizer, come ci commive Bill Gates e compagnabella che forniscono come dire, soldi nel senso che immestano sul Pfizer, eccetera, eccetera, come pure sull'OMS, ma chi stai a sapere? È lecito dubitare di queste persone in maniera asettica, prima stavo con uno, Fauci, ora poi si è spostato su Biden, eccetera, eccetera, io credo poco a questi soggetti. Lei cosa ne pensa dei Novax? Perché ancora c'è un po' di diffidenza, un po' di timore verso questi nuovi vaccini, ecco, si sente di dare un consiglio a chi magari non vuole vaccinarsi? L'ho già dato nel tempo, perché io non sono mai stato un Novax, al contrario, io sono favorevole ai vaccini, lo sono particolarmente verso i vaccini tradizionali, cioè i vaccini tipo AstraZeneca, tipo Johnson & Johnson, che sono dei vaccini in cui sono stati prelevati i virus, sono stati privati della capacità di dare malattia e quindi inoculati nel paziente che ha formato gli anticorpi in maniera accettabile. Le riserve sugli altri tipi di vaccini e anche un po' su AstraZeneca, qual è? Gli altri vaccini tipo Pfizer, per essere chiari, RNA messaggeri, sono che non hanno fatto le tre fasi di sperimentazione. Togliamoci dalla testa, i politici hanno imposto la necessità di curare, 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 ma ci sono dei tempi tecnici che sono inevitabili nella sanità e fra cui la sperimentazione per garantire il cittadino, il paziente, eccetera, eccetera. Questi tempi prevedono da due a quattro anni. Qua in tre, quattro mesi hanno apparecchiato vaccini. Ora la riserva sul vaccino che va bene, i vaccini vanno bene nella misura in cui però noi sappiamo che nel tempo non presentino effetti collaterali. Da qui, non avendo fatto le tre fasi, si è andato incontro ad effetti collaterali disastrosi, dagli shock anafilattici fino alla mortalità di alcuni pazienti e non mi vengano a dire. Eh ma ne sono morti solo cento a fronte di milioni che hanno superato. Non funziona così per un medico che ha realmente una missione. I pazienti vanno salvati dove possibile tutti.